nell'episodio precedente Oggi ragazzi inizia un'altra giornata fantastica in compagnia di qua cabra che fai di bello? Cabra che cosa fai? Il dito Vabbè lei si rompe le dita Ragazzuoli io sono pronta Virginia ancora si sta preparando Posso entrare con la telecamera? Sì provaci Oh mi apri Virgì? No No Che ti saluta Un saluto a te Oh Virgì Oh saluta Ciao Sei in primo piano C'è tipo la telecamera così Sommata come chissà cosa Weee Ci rischiamo Ci rischiamo Sono svegliata alle otto C'è le nove Vabbè io sono io Sono rimasta tutto il tempo da non salvarti mentre dormivi Guarda che schifo Io Ma solo hai spinto con la cellula e le faccio cadere Vabbè è caduto Mi chiusi sempre un fiore Ma che c'è la testa? Approciava sul fiore Ma stai ferma Ok È un fiore Qua Vabbè solo lei apre così il zucchero Ma stai in tasto Madonna Vi sono bisogno di farlo Oddio Quindi questo è uno scherzo epico finito male Adesso faremo 20 views Perché questo è uno scherzo epico finito male Io non so fare neanche uno meno utilizzato Cosa? Io non so fare neanche uno meno utilizzato Cosa? Oh basta Scusa non ho capito Scusa non ho capito Non so fare neanche uno meno utilizzato Non ho capito Non ho capito Fati segnare ok? Scusa Scusa Ciao Scusa Scusa Guarda ma quanto è bella Palermo Pirgi 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 But a mia chi è calda su uno calmo Pirgi Eh 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 Vigi, raccontaci un po' quanto è buona insana per me Troppo, anche se ho lavorato, però è buonissima Virgì, 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 flippa la bottiglietta Ci vai, Virgì, vai Vedete? Mi sono riuscita, ho visto? Quindi dove siamo? A Zara In Duomo? A Zara? Sì, sì In Duomo, anzi, in Milano, al centro di Roma Virgì Lo senti che musica Dica, guardate altra, Virginia No, non è vero, scherzavo Nana Ragazzi, ma Virginia, voi la vedete? Io non la trovo Io non la trovo La trovate? Oddio, un fungo Un fungo Il fungo di Super Mario Virgì, guarda Sì, stai schiacciando la faccia Vedi Io a te Oh, oh Fai Guarda Georgì Oh Bip Oh, c'è più ragazzi Cominato per tutto il suo tempo Su che dici? Non sta, non hai fatto niente Non voglio che te ne vai Virgile ai fini le ingozzate Poi dici perchè sarà balena Allora, Cazzuoli, eccoci qui Questo qua è il treno per Milano Ovviamente, dobbiamo aspettare quello per Roma che arriva per tipo un'oretta Non voglio che te ne vai Virgile dai molto piccoli Seppure lo lasciate Fateci sapere questo sotto nei commenti Se avete anche voi una mica a distanza e siete tristi quando se ne va E niente, a questo punto ci vediamo direttamente quando ci saldiamo con Virgile Ciao Eccoci Allora, il treno è partito da un minutino due Prima avete visto le foto che abbiamo fatto all'ultimo momento io e Virgile Mentre due docci Dicevo Non mi andava di salutare la parte in cui ci saldavamo Perchè ho preferito comunque dedicare quel tempo a salutarla che a vloggare E quindi niente Ma adesso ci aspettano 6 ore di treno Buon divertimento a noi E anche sul treno Compro conosciamoci meglio Questo bellissimo di eroto ci sono anche io Solo che hanno scritto Silvi e non Silvi Bene Bravi quei dati montatori Bravi Ciao Charlie A quel momento in cui il treno si ferma in mezzo alle montagne e non ha internet Ma è una gioia No ragazzi mi sembra una barbona con sto cosa in testa Sto senza Sto senza Tornato internet Una gioia della mia vita Però sembra comunque un barbone Ragazzi guarda quanto è pieno il treno C'è tanta gente c'è Certo Què E' un momento in cui vedi questo E rimani Un basita Quel momento che dopo un minuto di gioia Babbia di nuovo internet Ah è una gioia Io non ce la posso fare Eccoci a vlogg Ragazzi dopo 6 ore di treno io sono distrutta Ho la parte che, vabbè, lascio questa, non la commentiamo Sono stressa anche, ma io anche spara Yeah Raga, datemi un letto, mi prendo, io sono un letto Eh, siamo in macchina C'era Chi? Oh mio Dio Come sta? Che pappi Wow, eccoci qui ragazzi, tornati dal punto di partenza Allora, parto con ringraziare Virgi Che ho passato due giorni fantastiche in sua compagnia Quindi vi mando un bacione a Virgi Fui bene orcetta Poi mando anche un bacione a mia madre E alla mamma di Virgi, quindi a Rita Perché mi hanno permesso tutto ciò Quindi grazie anche a voi Un bacione Quindi raga, io veramente sono super felice Di aver visto di nuovo Virgi Mi mancava veramente tanto Poi ragazzi, scusatemi veramente per la faccia e per l'aspetto Però dopo sei ore di treno Questi sono i risultati E niente Un bacione Notte